Avevamo già provato il 33 Viltrox 1.4 su una Fuji, adesso facciamo lo stesso test provandolo su una Sony 6600. Allora guarderemo quello che è la qualità d'immagine per confrontare, per vedere se in effetti questo obiettivo ha le stesse prestazioni, ma sicuramente sì, cambiando il tipo di sensore. Ricordo che le Fuji hanno un X-Trans, qui ci troviamo con il classico Bayer, che equipaggia tutte le APS-C di Sony da 24 milioni di pixel. Quello che mi interesserà vedere anche le prestazioni, anzi principalmente le prestazioni a livello di autofocus, per vedere se l'autofocus così performante della 6600 veniva seguito dal Viltrox 33. Qualche tempo fa ho fatto lo stesso test che vi linkerò comunque sul 23 Viltrox 1.4, sempre Viltrox, sempre sulla 6600. Prima di andare avanti a parlare di questo obiettivo, delle sue caratteristiche, delle sue prestazioni, vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale di ProMirrorless, di spuntare la campanellina. Canale di ProMirrorless che non parla solo di prove tecniche per quello che riguarda obiettivi e macchine fotografiche, ma parla anche di fotografia a 360 gradi, grandi autori, pausa e caffè. Inoltre abbiamo due gruppi su Facebook, corso dallo scatto alla stampa e bianco e nero fine art, che vi guideranno passo passo dallo scatto sino alla fase finale importantissima, direi a mio parere basilare, unica e da fare assolutamente, che è la stampa. Allora parlando di questo Viltrox 33 1.4, adesso vi farò vedere come è costruito, come è ingegnerizzato sulla Sony, quali sono le sue proprietà, le sue qualità, le sue prestazioni ottiche e quelle che sono le prestazioni Autopox su questo 6600. Visto questo al centro della recensione faremo due chiacchiere finali e vi dirò quelle che sono le mie impressioni finali appunto su questo 33 della Viltrox. L'obiettivo si presenta molto bene, è tutto in metallo, molto buone direi le finiture, sono 270 grammi di peso, 7 cm di lunghezza, 10 elementi in 9 gruppi, 9 lamelli di diaframma, 40 cm come minima distanza di messa a fuoco, un motore autofocus estremamente silenzioso e performante di tipo Steeper Motor. Qui lo vedete con il suo paraluce in dotazione, purtroppo in plastica e stona un po' con il resto tutto in metallo. E' presente la ghiera dei diaframmi, per me come sapete bene insostituibile, estremamente fluida, per i videomaker è una manna perché non hai il click delle varie impostazioni, per i fotografi non avere questi questi Stepped quando si cambia diaframma può essere alle volte un po' controproducente, meglio anche a livello tattile sentire quando si cambia diaframma. L'obiettivo in prova è dotato di una baionetta e mount per le Sony APS-C. Il diametro filtri anteriore è da 52 mm quindi non è estremamente ampio e quindi il costo dei filtri non sarà sicuramente eccessivo. La baionetta come vedete non presenta nessuna guarnizione, a testimonianza purtroppo tra virgolette che questo Viltrox non è tropicalizzato, è presente però una presa usb per aggiornamenti futuri che potranno migliorare sia le prestazioni autofocus sia le compatibilità con le Sony future APS-C. E qui lo vedete installato su una Sony A6600 che è la top di gamma attuale di Sony a livello di APS-C. Come vedete tutto il complesso si presenta estremamente equilibrato, una bella estetica devo dire questi due pezzi insieme danno una bella impressione, una chicca comunque è sempre questa ghiera di diaframmi che dà un armi in più a livello di controlli alla A6600. Cominciamo adesso a valutare le prestazioni, a livello di distorsione si nota una leggerissima distorsione a cuscinetto, ripeto io non faccio mai nessuna correzione quando faccio i test degli obiettivi delle macchine sia a livello appunto macchina sia a livello software di elaborazione. A livello di vignettatura a tutta apertura vedete 1.4 la vignettatura è abbastanza evidente e si mantiene ancora evidente a f2, a diaframmi successivi a 2.8.4 la vignettatura va a sparire completamente, vignettatura che come sapete bene alle volte noi fotografi la mettiamo in fase di post produzione ma questo è un altro discorso. A livello di flare a sinistra vedete uno scatto a tutta apertura con la lente schermata, a destra senza nessuna schermatura, vedete che il flare è piuttosto invasivo abbassa molto contrasto quindi prestate massima attenzione quando fate i vostri scatti. Andiamo adesso a controllare quelle che sono le prestazioni a livello nitidezza, cominciamo a tutta apertura al centro, andiamo a man mano ingrandire l'immagine e potete notare che al centro già a tutta apertura la nitidezza è veramente molto buona, l'immagine croccante, i dettagli molto ben definiti. Adesso andiamo a vedere ai bordi come si comporta, certamente con un obiettivo del genere a tutta apertura ai bordi ci si può aspettare una prestazione non alta e sicuramente non a livello delle prestazioni al centro e in effetti vedete che a tutta apertura ai bordi l'immagine è molto morbida, direi che qui siamo sul scarso o appena sufficiente. Confrontiamo adesso i vari diaframmi al centro, allora a 1.4 vedete la nitidezza è già buona, poi a f2 2.8.4 si è una spinta notevole in alto e devo dire che siamo a livelli veramente molto molto alti, è una prestazione che mi ha devo dire un po' stupito. Man mano che si chiude il diaframma a 5.6 8, la nitidezza rimane sempre elevata, a 11 comincia a calare un po', la diffrazione compare a 11, quindi è un obiettivo che da 2 a 8 al centro si comporta molto bene, la nitidezza a livello dei migliori obiettivi devo dire in circolazione su questa focale. I bordi invece sono un po' il lato dolente, a 1.4 vedete è morbidissimo, a 2 ancora morbido, a 2.8 comincia a essere sufficiente, a 4 direi che andiamo molto bene, quindi da 2.8.4 i bordi cominciano a essere buoni, man mano che si chiude il diaframma vedete 5.6, 8, 11 sono diaframmi usabilissimi, quindi da 4 a 11 i bordi l'obiettivo va molto bene, a 16 compare diffrazione, quindi da diciamo da 2.8.4 fino a 11 tutto il fotogramma è nitido, a distanza ravvicinata l'obiettivo si comporta bene al centro, vedete a 1.4 è un po' morbido, a 2 guadagna 2.8.4 l'obiettivo è nitidissimo, ottima prestazione quindi anche a distanza ravvicinata. A livello di aberrazioni, essendo i bordi così morbidi mi hanno fatto già sospettare un'aberrazione piuttosto presente, man mano che ingrandiamo l'immagine, qui ingrandiamo l'immagine circa al 300% su questa mira d'alto contrasto, possiamo vedere di fatti a tutta apertura che l'aberrazione è presente, non in maniera eclatante ma è sicuramente presente, a sinistra vedete a 1.4, a destra 2.8, chiudendo di 2 stop l'aberrazione va praticamente a sparire, è presente a tutta apertura probabilmente per quello che ai bordi a tutta apertura hanno delle prestazioni piuttosto scarse, chiudendo poi a 2.8.4 come avete visto i bordi guadagnano. Lo sfocato devo dire che è molto buono, come potete vedere lo sfondo è cremoso, burroso e anche i punti luce fuori fuoco hanno i bordi che non sono troppo netti, sono piuttosto sfumati e si vedono poco, pochissimo le lavorazioni delle lenti asferiche installate su questo obiettivo. Se adesso confrontiamo le prestazioni a tutta apertura e a f4, a parte lo sfocato che cambia completamente, devo dire che anche a f4 lo sfocato è piuttosto piacevole, certo non è paragonabile a 1.4 ed è per questo che tanti appassionati acquistano questi tipi di obiettivi per avere uno sfondo di questo tipo, questa cremosità, questa burrosità. Ero molto curioso di vedere le prestazioni del Viltros 33 su una Sony A6600, come sapete bene le Sony hanno un'arma viciniale che è proprio l'autofocus. Cominciamo a vedere un po' la prestazione con l'autofocus singolo, impostato quindi la macchina autofocus singolo, spot flessibile espanso e il funzionamento come vedete è molto preciso, sicuro e estremamente silenzioso. Questa coppiata direi che funziona in maniera perfetta, massima sicurezza, massima precisione e massima silenziosità. Però volevo vedere come funziona con l'autofocus continuo che è l'arma in più, ancora in delle Sony in particolare di questa A6600. Quindi ho impostato AFC, ho messo uno spot flessibile largo, vado ad agganciare il soggetto e comincio a fare il tracciamento. Come potete vedere il soggetto una volta agganciato non viene più lasciato dalla coppiata Sony A6600 Viltrox 33, quindi un comportamento eccellente. Ma se vado a chiudere di un paio di stop si vede un problema, vedete quando arriva al bordo del fotogramma il soggetto viene sganciato. Penso sia un problema firme, vedremo che i prossimi aggiornamenti si verrà riparato. Allora come al solito raccogliamo un po' l'idea. Durante la recensione, nella parte centrale, vi ho già spiegato quelle che sono le sue performance come qualità ottica e come autofocus. Raccogliendo un po' le idee si può notare che questo obiettivo è ottimizzato per lavorare aperture piuttosto ampie, nel senso che la nitidezza è chiaro a 1.4 non è spettacolare, ma al centro è già molto buono direi. Poi abbiamo un picco di nitidezza da f2 sino a 8, una nitidezza molto spinta al centro perché poi va pian piano a calare, diaframme più chiusi causa la diffrazione. Però diciamo che da 2, 2.8 sino a 8 abbiamo prestazioni veramente eccellenti al centro. I bordi rimangono sempre un po' indietro come avete visto. 1.4 sono molto molto pastosi. Diciamo che da 4 a 8, 11 i bordi hanno una nitidezza discreta buona, certo non paragonabile a nitidezza molto molto alta che ho riscontrato su questo esemplare accoppiato da 6.600 al centro. Quindi un obiettivo, il 33 che equivale circa il 50 mm classico sul full frame che sapete bene è molto adatto anche per la fotografia di ritratto perché non deforma troppo il soggetto. Inoltre ho notato che ha uno sfocato come avete visto i puntini luminosi hanno dei bordi molto morbidi quindi avremo uno sfocato molto cremoso, molto piacevole. Aberrazioni ce ne sono un po' come avete visto chiudendo di un paio di stop spariscono poi si possono comunque correggere in fase di post produzione con Lightroom, con Capture, con il software che utilizzate. Un obiettivo quindi che a livello di qualità di immagine è molto buono tenendo conto ancora ve lo dico del prezzo molto molto vantaggioso. A livello di autofocus anche qui diciamo che le prestazioni sono molto molto buone perché è un autofocus, ha un motore autofocus molto reattivo molto silenzioso e ho notato come col 23 un piccolo difetto vale a dire nel tracking utilizzando diaframmi aperti non ci sono assolutamente problemi sino al bordo del fotogramma. Chiudendo di uno stop 2 quindi sul 2.8 il tracciamento non viene seguito sino ai limiti estremi del sensore. Una cosa non trascendentale però ci tenevo a farlo presente. Vedremo se con aggiornamenti firmware possibili secondo me è un problema più che altro di elettronica verrà ovviato questo problema. Un obiettivo quindi comunque altamente consigliabile per tutte le sue prestazioni che darà sicuramente una grande marcia, un grande aiuto installato su una 6600 e non su una 6400. Detto questo se l'articolo vi è piaciuto mettete un like ricordate di fare l'iscrizione al nostro canale di ProMirrorless di spuntare la campanellina. Ci vediamo alla prossima recensione magari di un Viltrox. Ciao!